Il mondo delle truffe si arricchisce ogni giorno di nuovi casi, dove a farne le spese talvolta sono lo Stato e talvolta soggetti fragili incapaci di difendersi. Nella truffa scoperta dalle fiamme gialle del gruppo di Gioia Tauro coincidono entrambi gli aspetti, visto che i capi di accusa nei confronti dei due responsabili, due insegnanti di un paese della provincia di Reggio Calabria, sono truffa ai danni dello Stato, circonvenzione di incapace, indebito e utilizzo di strumenti di pagamento, nonché di falso in atto pubblico. L'indagine scaturisce da una segnalazione di un istituto scolastico della provincia di Roma, dove l'uomo avrebbe dovuto prestare servizio quale docente. Però avrebbe avanzato richieste di congedo straordinario per l'assistenza di un'anziana donna a sua parente, convivente e gravamente malata. Le indagini che ne sono scaturite hanno appurato non solo che la donna non era convivente, ma addirittura che era ricoverata in una casa di riposo fuori regione nel periodo in cui l'uomo fruiva dell'assenza ai sensi della legge 104. Inoltre, entrambi i coniugi avrebbero convinto la donna a mettere a loro disposizione la sua pensione, compresa quella di invalidità, fino all'alzeramento del saldo del conto corrente. E comunque senza fornire alcuna forma di assistenza e di supporto. Il denaro dell'anziana sarebbe stato poi utilizzato al netto del pagamento di parte delle rette del soggiorno della casa di riposo, dove comunque sarebbe maturato un ingente debito, per il soddisfacimento di esigenze personali e familiari, nonché per l'acquisto di beni di lusso, per oltre 90.520 euro in soli quattro anni. La ciliegina sulla torta è stata la contraffazione e le dichiarazioni sostitutive della certificazione di notorietà in cui sarebbe stata falsificata la firma dell'anziana per l'ottenimento dei contrassegni personali alla mobilità per disabili. Alla fine delle indagini, le fiamme gialle di Reggio Calabria hanno messo agli arresti domiciliari i due insegnanti e hanno provveduto al sequestro preventivo per oltre 95.377 euro nei loro confronti.